Il 21 marzo 2013 un fatto di cronaca fece grande scalpore nell'Alto Garda. Una bambina era in seconda elementare quando insieme alla sua classe e alle maestre della scuola di Sant'Alessandro andò a vedere da vicino la fontana di Piazzetta Craffonara a Riva del Garda, in pieno centro storico. La riproduzione in gesso della vasca romana in una frazione di secondo collassò piombando addosso ai piccoli alunni. In quattro rimasero feriti e la bambina, che all'epoca aveva sette anni, fu la più grave e venne subito trasportata in elicottero a Trento. Purtroppo questo fatto ha condizionato la vita della bambina e la famiglia ha deciso di fare causa al comune, chiedendo un regiarcimento danni, oltre che alla scuola e di conseguenza alla provincia. Difetto di custodia è la contestazione giuridica mossa nell'atto di citazione che porterà le parti in tribunale per la prima volta nel prossimo mese di marzo. Quel giorno, racconta la mamma, mia figlia ha subito la frattura della tibia e della piastra di accrescimento distale del femore, in pratica l'osso dell'accrescimento. Il risultato oggi è che una gamba, la destra, è più corta dell'altra di 3 centimetri. È chiaramente immaginabile quali danni psicologici possa creare un disturbo del genere. Io non ce l'ho con le maestre, afferma ancora la mamma, compressibilmente segnata da questa dura esperienza. Ce l'ho però col comune, perché non si può lasciare un oggetto di quel tipo incustodito, accessibile a chiunque. Nell'atto di citazione, la contestazione mossa al comune è di aver avuto un comportamento omissivo, consistito, si legge, sia nell'omessa cura, custodia e manutenzione e restauro del bene, sia nell'effettuazione di lavori massimamente insufficienti e idonee a garantire l'equilibrio e la stabilità del manufatto. Lo stesso manufatto che mesi prima era stato sistemato con del fil di ferro e transennato in occasione della notte di fiaba del 2012.